ciao amici eccomi qua adesso darò da mangiare i nombrichi siamo all'inizio dell'anno del 2023 e voi ricordate che ho adesso Gloria venne in quadro sempre le due vasche quella grande quella un po più piccola quello che ho fatto circa un mesetto fa eccola lì adesso Gloria ve lo sta inquadrando bene adesso passiamo all'alimentazione siamo solo più vegetale questo giro cartone e fondi di caffè per il semplice motivo che il letame non posso andarlo a prendere perché è sotto e questa piovigine anche se non fa assolutamente freddo ma questa piovigine rende un po complicato andarlo a prendere no e allora allora metto metto un po di di vegetale che ormai è già diciamo a un buono a un buono stato di di compostaggio quindi va benissimo ecco adesso il resto lo metto qua in questo qui un po più grande e così per un po siamo posto ecco benissimo adesso Gloria inquadra qui lo allargo un attimino vi vedete che il cartone si vede gli scarti vegetali pure i fondi di caffè ci sono perché li ho mescolati adesso se Gloria si sposta un attimo va indietro metto solo un po di liquido userò il percolato adesso perché è bagnato non è non è necessario inumidire più di tanto perché con il tempo adesso se Gloria viene qui facciamo il giro e guarda facciamo controlliamo se ci sono nella vasca piccola ecco qui ecco le qua ci sono adesso Gloria li inquadra poi si vedono si si vedono ce ne tanti bene sono contento ce ne ce ne attenzione Gloria benissimo sono anche grossi bene adesso passiamo a quello grande la vasca io la chiamo grande non è molto grande rispetto a quelli che che hanno delle lombricolture gigantesche ma per me è grande vieni Gloria avvicinati qui così facciamo vedere agli amici i lombrichi che ci sono sotto sperando che ce ne sia ma ne abbiamo visti prima si eccoli lì eccoli qua spero che cosa possono vedere perché ce ne è un mucchio qua senti noi gli facciamo vedere agli amici mi garantisco che ci sono sì sì garantisco anch'io anche qua guardo figlio prima si si ma adesso era solo per benissimo benissimo in terra solo un po' il terra un termine sbagliato ricopro un po' questa questi scarti vegetali ma non so perché non è che sia obbligatorio è ma mi dà l'impressione che così possono mangiare più comodamente magari una solo una mia impressione benissimo il lavoro è stato fatto io vi super saluto e vi ringrazio della visione e alla prossima ciao 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 ciao